Ci dissociamo dal progetto di viabilità urbana voluto dall'amministrazione comunale, la cui applicazione porterebbe a gravi disagi per i cittadini e a danni economici per i commercianti. Un coro di no, quello che proviene dagli iscritti dell'ACOM di Margherita di Savoia, l'Associazione Commercianti ed Artigiani, che contestano con forza il nuovo piano di sensi di marcia delle strade della città, la cui sperimentazione partirà dal 1 ottobre prossimo. L'obiettivo nei programmi del Comune è quello di liberare Margherita dal traffico di auto, migliorando la qualità della vita. Come? Innanzitutto impedendo la circolazione nel centro abitato dei mezzi pesanti, quelli con una capacità di portata superiore alle 7 tonnellate, che saranno dirottate sulle arterie extraurbane. Un punto sul quale anche l'ACOM si trova d'accordo. Al centro della polemica, è scritto in una nota dell'Associazione, è invece il senso unico in tutte le strade cittadine. Una scelta che, oltre a creare problemi alla circolazione e penalizzare le attività commerciali, come nel caso di Via Africa Orientale, farebbe aumentare anche i livelli di inquinamento, alla luce dei percorsi senza senso che gli automobilisti sarebbero costretti a seguire. L'amministrazione, sottolinea il comunicato, continua a non tener conto dei pareri della cittadinanza e soprattutto di una grande realtà come l'ACOM, che conta al suo interno più di 140 attività. Il nuovo piano di viabilità appare come un vero e proprio atto di forza da parte degli amministratori locali, dai quali l'Associazione, conclude la nota, è costretta a prendere le distanze di sicurezza.